Dilaga sempre di più, ora anche sul web, la stradina magica Mania. Il caso della strada di località San Giovanni a Sala Consilina, dove le autovetture in folle e gli oggetti sembrano essere sospinte in salita, è diventato ormai di dominio nazionale. Ed il luogo in questione è oggetto di un vero e proprio pellegrinaggio con curiosi che arrivano da ogni dove per fare la prova. Ma la cosiddetta stradina magica infiamma anche il web. Sono più di 7.000 in soli 5 giorni i navigatori che hanno visto sul web il nostro servizio trasmesso da TV Oggi nel Tg di martedì scorso. Tantissimi anche messaggi sulla vicenda nel nostro e nei tanti blog di discussione sull'argomento, che certamente dal punto di vista del colore e del costume rappresenta un fatto di sicura presa. A contribuire a questa vera e propria mania senza dubbio i servizi dedicate alla vicenda dal Tg5 e dal Tg2 che l'hanno portata alla ribalta nazionale. Ma quello che fa più notizia è che i telespettatori non sono poi così ingenui quanto si potrebbe pensare, che alla fine ad abboccare la tesi del sovrannaturale dei campi elettromagnetici, lanciate in primis da alcuni giornalisti e media locali in un probabile eccesso di entusiasmo, sono state proprio le blasonate in reti televisive nazionali. E già perché invece TV Oggi, nel servizio andato in onda nel Tg di martedì scorso, aveva in anteprima svelato il mistero della stradina magica. Un umile e volenteroso carpentiere di Sala Consilina, armato di una semplice livella, dimostrava infatti che la strada è solo apparentemente in salita e che a creare lo strano fenomeno è una suggestiva allusione ottica. Il fenomeno è stato ulteriormente spiegato ed approfondito in vari siti web. Per chi volesse saperne di più, invitiamo a visitare il blog Il Disinformatico, a cura di Paolo Attivissimo. All'indirizzo web www.attivissimo.blogspot si potrà dunque verificare come Tg5 e Tg2 abbiano potuto abboccare la storia della stradina magica, che viene definita senza mezzi termini una bufala. La strada dunque sembra in salita per via degli oggetti circostanti, ma basta prendere una livella per accorgersi che è in realtà in discesa. Di strade simili ce ne sono tante nel mondo e sul blog vengono citati altri esempi. E ancora sul sito www.massimopolidoro.com arriva ulteriore conferma dell'illusione ottica, dovuta al nostro limitato senso dell'equilibrio che si affida anche alla vista per decidere in che direzione sia il basso. Certo, come ha scritto, un nostro acuto e ironico telespettatore è un vero peccato, perché la tesi da X-Files sarebbe stata quantomeno divertente.